La sostanza fissa che si deve disciogliere è nascosta nelle ceneri e la volatile che fa la soluzione è nascosta nell'acqua. La virtù generativa è nascosta nella sostanza fissa, il cui alimento è la sostanza volatile. Lo spirito volatile che fa la soluzione del fisso per la sua abbondanza separa nel medesimo tempo le eterogeneità. Ogni misto contiene in sé tre sostanze, il corpo, l'anima e lo spirito. Lo spirito o sostanza volatile riceve la sua origine dalla prima natura costitutiva di tutti i misti. Questo spirito è di tre tipi di generi per una dominazione di elementi differente in ognuno dei tre regni. Lo spirito volatile è la parte più sottile del sale fisso e risiede nell'acqua ardente. L'acqua che chiamiamo ardente o bruciante è tale in effetti e prende fuoco se è del regno vegetale o animale ma non se appartiene al regno minerale o almeno queste acque si infiammano solo raramente benché esse vengano chiamate acqua ardente poiché sono simili alle altre per la composizione della loro sostanza. L'acqua ardente dello stagno e quella del piombo prendono fuoco ma non quelle degli altri metalli. La vera soluzione chimica si fa con il solo spirito del sale disciolto dell'acqua e non altrimenti. Il sale fisso è la causa della coagulazione e il volatile è la causa della soluzione perché il calore del sale fisso è accompagnato dalla secchezza. Quello del volatile è umido. Non c'è nulla al mondo capace di fare la soluzione fintanto che questo qualcosa non contenga in sé dello spirito del sale disciolto dall'umido o dallo spirito volatile. La rugiada, lo spirito del vino, le acque forti e l'aceto fanno soluzione perché essi contengono lo spirito volatile del sale che è lo spirito del sale fisso disciolto. Lo spirito del sale è dotato di una virtù celeste dissolvente perché esso è sottile e della medesima sostanza del sale fisso di ogni corpo. Lo spirito volatile non si trova solo negli cuori caldi ma anche in quelli freddi come l'aceto, il vergi, il succo di limone eccetera. Nei cuori caldi lo spirito volatile è suscettibile di infiammarsi perché esso consiste nella parte aerea ed ignea del sale. Nei cuori freddi esso non è capace di prendere fiamma perché consiste nella parte terrestre ed acquosa del sale. La soluzione nei vegetali si fa con l'unione del fisso e del volatile e con la continuazione di un calore esterno molto lento. Le due radici unite assieme diventano acqua con questa soluzione e questa acqua è l'ultimo alimento e la seconda sostanza dei vegetali.